Cavalleria rusticana di Giovanni Verga Turidumacca, il figlio dell'Agnanunzia, come tornò da fare il soldato? Ogni domenica si pavoneggiava in piazza con l'uniforme da bersagliere e il berretto rosso, che sembrava quella della buona avventura, quando mette su banco con la gabbia di canarini. Le ragazze se lo rubavano con gli occhi mentre andavano a messa col naso dentro la mantellina, e i zolfanelli gli ronzavano attorno come le mosche. Egli aveva portato anche una pipa col re a cavallo, che pareva vivo, e accendeva gli zolfanelli sul dietro dei calzoni, levando la gamba come se desse una pedata. Ma con tutto ciò l'ola di Massaro Angelo non si era fatta vedere né alla messa né sul ballatoio, perché si era fatta sposa con uno di Licodia, il quale faceva il carrettieri e aveva quattro muli di sortino in stalla. Dapprima Turiddo, come lo seppe, santo diavolone voleva tirargli fuori le mudella dalla pancia, voleva tirargli a quel di Licodia. Poi non ne fece nulla e si sfogò con l'andare a cantare tutte le canzoni di sdegno che sapeva sotto la finestra della bella. Che non ha nulla da fare, Turido della Gnanunzia, dicevano i vicini, che passa la notte a cantare come una passera solitaria. Finalmente si imbatte in Lola, che tornava dal viaggio alla Madonna del Pericolo, e al vederlo non si fece né bianca né rossa, quasi non fosse stato fatto suo. Beato chi vi vede, le disse. Oh, compare Turiddu, me l'avevano detto che siete tornato al primo del mese. A me mi hanno detto delle altre cose ancora, rispose lui. Che è vero che vi maritate con compare Alfio, il carrettiere? Se c'è la volontà di Dio, rispose Lola, tirandosi sul mento le due cocche del fazzoletto. E la volontà di Dio la fate col tirai molla come vi torna conto? E la volontà di Dio fu che dovevo tornare da tanto lontano per trovare ste belle notizie, gna Lola. Il poveraccio tentava ancora di fare il bravo, ma la voce gli si era fatta roca, ed egli andava dietro alla ragazza dondolandosi con la nappa del berretto che gli ballava di qua e di là sulle spalle. A lei, in coscienza, rincresceva di vederlo così, col viso lungo, però non aveva cuore di lusingarlo con belle parole. Sentite, compare Turiddu, gli disse al fine, lasciatemi raggiungere le mie compagne. Che direbbero in paese se mi vedessero con voi? È giusto, rispose Turiddu. Ora che sposate compare Alfio, che ci ha quattro muli in stalla, non bisogna farla chiacchierare la gente. Mia madre invece, poveretta, la dovette vendere la nostra mulabaia e quel pezzetto di vigna sullo stradone nel tempo che ero soldato. Passò quel tempo che Berta filava e voi non ci pensate più al tempo in cui parlavamo dalla finestra sul cortile e mi regalaste quel fazzoletto prima di andarmene. Che Dio sa quante lacrime ci ho pianto dentro nell'andar via lontano, tanto che si perdeva perfino il nome del nostro paese. Ora, addio Gnalola, facciamo conto che a Chioppo è scampau e la nostra amicizia finì un. La Gnalola si maritò col carrettiere e la domenica si metteva sul ballatoio con le mani sul ventre per far vedere tutti i grossi anelli che le aveva regalati suo marito. Turiddu seguitava a passare e ripassare per la stradicciola con la pipa in bocca e con le mani in tasca, in aria di indifferenza e occhieggiando le ragazze. Ma dentro ci si rodeva che il marito di Lola avesse tutto quell'oro e che la fingesse di non accorgersi di lui quando passava. «Voglio proprio fargliela sotto gli occhi a quella cagnaccia!» borbottava. Di faccia compare Alfio ci stava Massarocola, il vignaiuolo, il quale era ricco come un maiale, dicevano, e aveva una figliola in casa. Turiddu tanto disse e tanto fece che entrò a Camparo da Massarocola e cominciò a bazzicare per la casa e a dire paroline dolci alla ragazza. «Perché non andate a dirle all'Agnalola, ste belle cose?» rispondeva Santa. «Bah, l'Agnalola è una signorona! L'Agnalola ha sposato un re di corona ora!» «Ah, io non me li merito, il re di corona!» «Voi ne valete cento delle Lole e conosco uno che non guarderebbe l'Agnalola nel suo santo quando ci siete voi, che l'Agnalola non è degna di portarvi le scarpe, non è degna.» La volpe, quando all'uva non poteva arrivare, disse, «Come sei bella, raccinedda mia!» «Oi me quelle mani, compare Turiddu! Avete paura che vi mangi? Paura non ho né di voi né del vostro Dio! Eh, vostra madre era di licodia, lo sappiamo! Avete sangue rissoso! Uh, che vi mangerei con gli occhi! Mangiatemi pure con gli occhi, che briciole non ne faremo! Ma intanto tiratemi su quel fascio! Per voi tirerei su tutta la casa, tirerei!» Ella, per non farsi rossa, gli tirò un ceppo che aveva sotto mano e non lo colse per miracolo. «Spicciamoci, che le chiacchiere non affastellano sarmenti!» «Se fossi ricco, vorrei cercarmi una moglie come voi, Nia Santa!» «Io non sposerò un re di corona come l'agnolola, ma la mia dote ce l'ho anch'io, quando il Signore mi manderà qualche d'uno! Lo sappiamo che siete ricca, lo sappiamo! E se lo sapete allora spicciatevi, che il babbo sta per venire e non vorrei farmi trovare nel cortile!» Il babbo cominciava a torcere il muso, ma la ragazza fingeva di non accorgersi perché la nappa del berretto del bersagliere gli aveva fatto il solletico dentro il cuore e le ballava sempre dinanzi agli occhi. Come il babbo mise Turiddu fuori dall'uscio, la figliolla gli aprì la finestra e stava a chiacchierare con lui ogni sera, che tutto il vicinato non parlava d'altro. «Per te impazzisco!» diceva Turiddu, «e perdo il sonno e l'appetito! Chiacchiere! Vorrei essere il figlio di Vittorio Emanuele per sposarti! Chiacchiere! Per la madonna che ti mangerai come il pane! Chiacchiere! Ah, sull'onor mio! Ah, mamma mia!» Lola, che ascoltava ogni sera nascosta dietro il vaso di basilico e si faceva pallida e rossa, un giorno chiamò Turiddu. «E così, compare Turiddu, gli amici vecchi non si salutano più?» «Ma!» sospirò il giovanotto. «Beato chi può salutarvi!» «Beh, se avete intenzione di salutarmi lo sapete dove sto di casa!» rispose Lola. Turiddu tornò a salutarla così spesso che Santa se ne avvide e gli batte la finestra sul muso. I vicini se lo mostravano con un sorriso, con un moto del capo, quando passava al bersagliere. Il marito di Lola era in giro per le fiere con le sue mule. «Domenica voglio andare a confessarmi, perché stanotte ho sognato dell'uva nera!» disse Lola. «Lascia stare, lascia stare!» supplicava Turiddu. «No, no, ora che si avvicina la Pasqua, mio marito lo vorrebbe sapere il perché non sono andata a confessarmi!» «Ah!» mormorava Santa di Massarocola, aspettando ginocchioni il suo turno davanti al confessionario, dove Lola stava facendo il bucato dei suoi peccati. «Sull'anima mia, non voglio mandarti a Roma per la penitenza!» Compare Alfio tornò con le sue mule, carico di soldoni, e portò il regalo alla moglie una bella veste nuova per le feste. «Avete ragione di portarle dei regali!» gli disse la vicina Santa, «perché mentre voi siete via, vostra moglie vi adorna la casa!» Compare Alfio era uno di quei carrettieri che portano il berretto sull'orecchio, e a sentire parlare in tal modo di sua moglie cambiò di colore come se l'avessero accoltellato. «Santo diavolone!» esclamò, «se non avete visto bene non vi lascerò gli occhi per piangere, a voi e a tutto il vostro parentado!» «Non sono usa a piangere!» rispose Santa. «Non ho pianto nemmeno quando ho visto con questi occhi Turiddu della Gnanunzia entrare di notte in casa di vostra moglie!» «Va bene!» rispose compare Alfio. «Grazie tante!» Turiddu, adesso che era tornato il gatto, non bazzicava più di giorno per la stradicciola e smaltiva Luggia all'osteria con gli amici. La vigilia di Pasqua avevano sul desco un piatto di salsiccia. Come entrò compare Alfio? Soltanto dal modo in cui gli piantò gli occhi addosso, Turiddu comprese, che era venuto per quell'affare e posò la forchetta sul piatto. «Avete comandi da darmi, compare Alfio?» gli disse. «Nessuna preghiera, compare Turiddu, era un pezzo che non vi vedevo e voleva parlarvi di quella cosa che sapete voi!» Turiddu dapprima gli aveva presentato un bicchiere, ma compare Alfio lo scansò con la mano. Allora Turiddu si alzò e gli disse «son qui, compare Alfio!» Il carrettiere gli buttò le braccia al collo. «Se domattina volete venire nei fichi d'India della Canziria potremmo parlare di quell'affare, compare!» «Aspettatemi sullo stradone, allo spuntar del sole e ci andremo insieme!» Con queste parole si scambiarono il bacio della sfida. Turiddu strinse fra i denti l'orecchio del carrettiere e così gli fece promessa solenne di non mancare. Gli amici avevano lasciato la salsiccia zitti zitti e accompagnarono Turiddu sino a casa. La gnanunzia, poveretta, l'aspettava sin tardi ogni sera. «Mamma!» le disse Turiddu. «Vi rammentate quando sono andato soldato? Che credevate non avesse a tornare più?» «Datevi un bel bacio come allora perché domattina andrò lontano!» Prima di giorno si prese il suo coltello a molla che aveva nascosto sotto il fieno quando era andato coscritto e si mise in cammino per i fichi d'India della Canceria. «Oh Gesù Maria! Dove andate con quella furia?» piagnucolava Lola sgomenta mentre suo marito stava per uscire. «Vado qui vicino», rispose comparalfio. «Ma per te sarebbe meglio che io non tornassi più!» Lola in camicia pregava ai piedi del letto premendosi sulle labbra il rosario che le aveva portato fra Bernardino dei luoghi santi e recitava tutte le avemarie che potevano capirvi. «Compare Alfio», cominciò Turiddu dopo che abbia fatto un pezzo di strada accanto al suo compagno, il quale stava zitto e col berretto sugli occhi. «Come è vero il Dio, so che ho torto e mi cercarei ammazzare!» «Ma prima di venire qui ho visto la mia vecchia, che si era alzata per vedermi partire, col pretesto di governare il pollaio, quasi il cuore le parlasse! E quanto è vero il Dio, vi ammazzerò come un cane per non far piangere la mia vecchierella!» «Così va bene», rispose compar Alfio, spogliandosi del falsetto. «E picchieremo sodo, tutti e due!» Entrambi erano bravi tiratori. Turiddu toccò la prima botta e fu a tempo a prenderla nel braccio. Come la rese, la rese buona e tirò nell'anguinaia. «Ah, compare Turiddu, avete proprio intenzione di ammazzarmi!» «Sì, ve l'ho detto! Ora che ho visto la mia vecchia nel pollaio mi pare di averla sempre davanti agli occhi!» «Apriteli bene gli occhi!» gli gridò compar Alfio. «Che sto per rendervi la buona misura!» Come gli stava in guardia tutto raccolto per tenersi la sinistra sulla ferita che gli doleva e quasi strisciava per terra col gomito, acchiappò rapidamente una manata di polvere e la gettò negli occhi dell'avversario. «Ah!» urlò Turiddu acceccato. «Son morto!» Egli cercava di salvarsi facendo salti disperati all'indietro, ma compar Alfio lo raggiunse con un'altra botta nello stomaco e una terza alla gola. «E tre! Questa è per la casa che tu mi hai adornato! Ora tua madre lascerà stare le galline!» Turiddu annaspò un pezzo di qua e di là tra i flichi d'India e poi cadde come un masso. Il sangue gli gorgogliava spumeggiando nella gola e non poté profferire nemmeno «Ah, mamma mia!»